Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV Siti. In primo piano la riapertura delle scuole in Campania. Ieri la firma dell'ordinanza da parte del sindaco Giovanni Palomba a Torre del Greco. Le scuole riapriranno il primo ottobre. Anche altri sindaci del Vesuviano hanno optato per questa scelta. Poi spazio alla cronaca, enesimo sequestro della Guardia di Finanza. Le fiamme gialle hanno scoperto nei comuni tra Pompei e Gragnano 29.000 mascherine prodotte senza alcuna autorizzazione ministeriale. Spazio naturalmente alle elezioni. I cittadini campani torneranno alle urne domenica e lunedì a Torre del Greco. Abbiamo chiesto ai cittadini quali sono le loro aspettative. Secondo la maggior parte degli intervistati, il presidente uscente Vincenzo De Luca è il favorito nella corsa alla presidenza della regione Campania. Ancora a Torre del Greco questa mattina la conferenza stampa Palazzo Baronale, promossa dall'assessorato alle politiche sociali, per parlare dei PUC. Questo e molto altro. Guardiamo i servizi. In Campania, come ormai noto, le scuole riapriranno in ritardo rispetto al resto del paese. Mentre in Italia gli studenti sono tornati in classe già lo scorso 14 settembre, in molti comuni campani il suono della campanella sarà posticipato. A Torre del Greco, il sindaco Giovanni Palomba, nella giornata di ieri, ha firmato un'ordinanza sindacale con la quale si dispone il posticipo dell'avvio delle attività didattiche al 1 ottobre. Abbiamo cercato di accogliere, nel modo più opportuno, le richieste che da più fronti ci sono giunte dal mondo della scuola. È un anno particolare per le evidenti e già note vicende legate alla crisi del coronavirus, ma tanti sono stati gli sforzi messi in campo, dalle istituzioni locali e dagli enti territoriali, per consentire un'efficiente ripresa delle attività per il nuovo anno scolastico, ha fermato il primo cittadino. Noi siamo in un momento, ormai da marzo, dove nessuno ha la bacchetta magica e più si è tranquilli nel fare cose, meglio è. Nessuno sa bene, anche perché i casi, ieri ce ne sono stati altri, sono asintomatici, ma il problema sussiste. Mi veniva anche chiesto da vari dirigenti, sindaco, cerchiamo di essere tranquilli nel fare le cose. Anche tanti altri comuni hanno predisposto la stessa ordinanza, quindi non sono i 4-5 giorni in più o in meno per quanto riguarda la scuola. Io dico con molta calma, tranquillità ai genitori, a tutti quanti, dobbiamo far ripartire le scuole, perché i nostri ragazzi non possono perdere quella che è l'istruzione, che è fondamentale. Far sì che invece del 24, le aprissimo il giorno 1, poco o nulla cambia. Almeno abbiamo fatto quello che ci veniva chiesto, di non correre e di fare le cose per bene. Stiamo strutturando anche che tutti i presti scolastici, quello che hanno chiesto, lo stiamo dando. Poi stanno arrivando anche i banchi, perché c'era anche questa problematica dei banchi. Nello stesso tempo, quando arrivano i banchi, bisogna prendere le suppellettili esistenti, bisogna togliere. C'è tutto ancora un lavoro che si sta avvicinando all'interno delle scuole. Uniamo un po' tutte queste cose e io mi sono sentito di fare questa ordinanza di apertura delle scuole il 1 ottobre. Riapertura rinviata anche a Torre Annunziata. Dopo gli otto contagi nella giornata di ieri, il sindaco ha deciso di posticipare a lunedì 28 settembre l'inizio del nuovo anno scolastico. Importante è un intervento accurato di sanificazione degli edifici scolastici dopo le lezioni al fine di garantire la ripresa delle attività didattiche in totale sicurezza per studenti, docenti e personale, ha dichiarato il sindaco Ascione. Anche a Castellammare la prima campanella nelle scuole suonerà il 1 ottobre. La decisione del sindaco Cimmino nasce dopo l'impennata dei contagi da Covid-19. È una mia assoluta priorità garantire la tutela della salute di tutti i cittadini, degli studenti e di tutto il personale scolastico che si appresta ad iniziare le attività didattiche in questo momento così delicato per tutto il paese, le parole del primo cittadino. Dopo le ordinanze dei vari comuni campani che hanno posticipato l'apertura delle scuole al 1 ottobre, anche i sindaci di Scafati e Bosco Reale si sono aggregati a tale scelta. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro tra Gragnano, Pompei, Santa Maria la Carità e Casal Nuovo 29.000 mascherine prodotte senza alcuna autorizzazione ministeriale. Nel corso della prima operazione le fiamme gialle della Compagnia di Castellammare hanno controllato un'attività di commercio all'ingrosso di articoli medicali di Gragnano, all'interno della quale erano esposte 100 mascherine FFP2 prive delle istruzioni per l'uso in lingua italiana e carenti dei requisiti previsti per quel livello di sicurezza. Le attività si sono poi estese a Pompei, al deposito della stessa società, dove sono state scoperte ulteriori 21.500 mascherine della medesima tipologia. I stessi finanzieri, nel corso di una seconda operazione, hanno riscontrato che una società operante nel settore del commercio al dettaglio di prodotti via internet, con sede a Santa Maria la Carità, aveva messo in vendita 2.800 mascherine sulle cui confezioni erano riportate solo scritte in lingua cinese ed inglese. Anche in questo caso il materiale è stato sottoposto a sequestro e il titolare, un 46enne del luogo, è stato sanzionato per volazione al Codice del Consumo, poiché i dispositivi erano privi delle obbligatorie indicazioni e delle avvertenze per il consumatore in lingua italiana. Infine, le fiamme gialle della Compagnia di Casalnuovo di Napoli hanno sequestrato, nel corso di un controllo nei confronti di un ambulante, 4.500 mascherine e 22 tute protettive prive di certificazione e di ogni garanzia di protezione per il consumatore. Sanzionato un quarantenne di Casalnuovo di Napoli per esercizio abusivo di attività commerciale. A meno di 48 ore dalle elezioni regionali in Campania, cresce l'attesa tra i cittadini di Torre del Greco per il ritorno alle urne, previsto nelle giornate di domenica e lunedì. I torresi hanno espresso pareri e convinzioni sui candidati alla presidenza della Regione Campania e sul referendum per il taglio dei parlamentari. Secondo la maggior parte degli intervistati, De Luca sarebbe il favorito nella corsa alla presidenza della Regione Campania. Non manca inoltre chi si appella al senso di responsabilità del popolo, invitando i cittadini a tornare al voto, ribadendo l'importanza delle elezioni in un momento storico così delicato. Io voterò sempre la stessa maniera, cioè io sono di sinistra e voterò De Luca per le regionali, anche se nel passato ha lasciato diverse cose in sospeso, soprattutto la storia dell'ospedale Marisca di cui non si è mai occupato a fondo. Quindi vede ancora De Luca favorito oppure potrebbe esserci un exploit della destra o la sorpresa Ciarambino Movimento 5 Stelle? Ma neanche per sogno De Luca fino alla fine. Per quanto riguarda il referendum, è a favore del sì o a favore del no? Mi sa che sono ancora incerta perché finora ero stata accanitamente dalla parte del no. Adesso all'idea che il governo potrebbe subirne qualche scossone se aumentano troppo o no, sono tentata di votare sì, perché questa non è una cosa seria, questa del referendum, diciamo la verità, è una prova che non mette in gioco il Parlamento, la struttura che richiederebbe ben altre modifiche. Io sono d'accordo con l'eliminazione della bicamerale. Però adesso ci sono altre considerazioni che bisogna fare, per cui forse voterò sì. Prevede una certa affluenza per queste elezioni regionali 2020? Io prevedo l'affluenza? Sì, la prevedo. E onestamente io voterò il sì per il taglio dei parlamentari. E poi voterò io che ho pienamente fiducia per Vincenzo De Luca, voterò per Vincenzo De Luca perché per me è stato l'unico che in campagna, la regione dove io, ha fatto cose buone. Sono contento per Vincenzo De Luca. Sono convinto pure che Vincenzo De Luca vincerà le elezioni a man basse, a man basse perché è uno che vale e merita. Secondo lei quindi Vincenzo De Luca triunferà a queste elezioni? Sì. E cosa può fare ancora per la nostra regione? Per la nostra regione Vincenzo De Luca deve fare quelle cose che stanno dicendo. Io lavoravo al Maresca e loro devono prendere degli impegni per gli ospedali che hanno chiuso, che ci siamo trovati in difficoltà per la sanità. Devono riaprire il Maresca, l'ospedale di Gragnano, la Scalesi, tutti gli ospedali di zona e della provincia di Napoli che ne abbiamo bisogno e che è molto importante per me. Chi è il favorito secondo lei? Io credo De Luca, credo. Potrebbe esserci un exploit di Caldoro o Ciarambino, Movimento 5 Stelle? Penso Caldoro potrebbe essere, 5 Stelle non credo. Ci sarà affluenza alle elezioni di quest'anno, prima volta che si vota a settembre? Poca. Poca affluenza quindi? Poca affluenza, sì, sì, senza altro. E per quanto riguarda il referendum è a favore del taglio dei parlamentari? Penso che forse è meglio il no che il sì, anche perché altrimenti rimangono delle regioni scoperte. Ci sono altre misure che le adotterebbe per il Senato e per i parlamentari? Basterebbe di unirsi un po' lo stipendio e tutto sarebbe risolto, si risparmierebbe e ci sarebbe il personale. Io penso sempre De Luca perché penso che abbia dimostrato quello di cui ha bisogno la regione intera, diciamo, di poter rispettare le aspettative che un cittadino merita. Per cui ha dato garanzia anche nel senso che ogni cittadino ha bisogno di una persona alle spalle che gli dia garanzia. Lui penso che sia stato una persona adatta al ruolo che occupa oggi. Ci sarà una certa affluenza a queste elezioni? Sì, io penso di sì perché il cittadino vuole una risposta, anche dopo le ultime vicissitudini che stiamo vivendo tutti quanti, i cittadini, come mi ripeto, ha bisogno di garanzie, cerca una risposta. Referendum sul taglio dei parlamentari, voterà per il sì oppure per il no? Io sicuramente per il sì perché ritengo che questi fondi che l'Italia ha, questi soldi, bisogna spenderli in modo ponderato, in modo giusto. Ci sono quindi altre riforme da prendere in considerazione? Le riforme in questo momento servono per dare anche garanzia all'Europa, perché l'Europa si è sborsa dei soldini, anche se in prestito, ma vuole in cambio le riforme che noi dobbiamo presentare. Secondo me il favorito sarà De Luca, sicuramente. Poi il secondo sarà le 5 stelle. Ci sarà affluenza a queste elezioni? Sì, la gente si fa, specialmente per votare sì, per togliere i latroni dal Parlamento. Bisogna votare sì tutti quanti perché dovevamo togliere tutti i latroni che stanno da 30 anni al Parlamento. E bisogna votare sì. Io penso che tutto il lavoro che è stato fatto sicuramente sarà il presidente De Luca. Prevede quindi un De Luca bis? Si è mosso bene il governatore? Da parte mia sì, sicuramente, perché lo si è attivato tanto per la campagna, ma anche portando delle problematiche nell'ambito nazionale. Le persone vanno a votare, le persone sentono l'elezione regionale. E per quanto riguarda il referendum sul taglio dei parlamentari, è a favore del sì oppure a favore del no? Ma guarda, io sento la voce del popolo, io sto in mezzo alla strada, io penso che sicuramente molti voteranno per il sì. Elezioni 2020 per la prima volta si vota a settembre, chi è il favorito in campagna? Penso De Luca, sicuramente. Dopo il comportamento che ha avuto nel lockdown, sicuramente è tra i favoriti nei pronostici, diciamo. Ci sarà affluenza secondo lei? Vabbè, metti in conto che normalmente quasi il 50% qua già non va a votare nella norma. Ma adesso è una situazione un po' particolare, quindi può darsi pure che c'è un po' di assenteismo maggiore. De Luca Bissi, il ritorno del centrodestra o un exploit 5 Stelle? Cosa prevede lei per queste elezioni? Io mi auguro il meglio, non saprei. L'importante sarebbe che facciano qualcosa di positivo, che siano di un lato o dall'altro, però io mi auguro che si faccia seriamente perché la situazione non è delle più semplici. Quindi chiunque salga, buon lavoro, però che sia positiva l'impegno. La gente andrà alle urne? Io spero proprio di sì, almeno da un sondaggio fra amici, ho visto che molti sono intenzionati ad andare, a dare il loro contributo. È giusto andare a votare in un periodo come questo? Onestamente l'avrei rinviato per qualche altro mese, magari dicembre o a gennaio addirittura, perché la situazione è un po' delicata e secondo me alcune persone non andranno neanche a votare. Chi è il favorito in campagna, secondo lei? Da quello che ho potuto capire mi sembra che il Presidente è uscente, però non posso dire di più, nel senso che sapete com'è, il voto è segreto. Sono contrario al taglio dei parlamentari, si devono solo abbassare gli stipendi ma non abbassare i parlamentari, perché altrimenti rischiamo di dare tutto in mano a solo poche persone ed è rischioso. Si devono abbassare i stipendi, perché non esiste che un parlamentare italiano deve prendere 30.000 euro al mese, quando un metameccanico che lavora 12 ore al giorno prende 1.600 euro al mese, loro che fanno per prendere 30.000 euro al mese? Per quanto riguarda la presidenza della Regione Campania, un De Luca bis, un ritorno di Caldoro oppure l'expload di Cinque Stelle? Non sono d'accordo con il ritorno di De Luca solo per un motivo, vuole fare lo sceriffo ma gli mancano pistole e proiettili. Torre del Greco è il primo comune con più di 50.000 abitanti ad essere pronto per i PUC. Queste le parole dell'assessore alle politiche sociali Luisa Refuto, che questa mattina nel corso della conferenza stampa tenutasi a Palazzo Baronale, alle telecamere di TV City spiega cosa sono i PUC e chiarisce che ad essere impegnati in questi progetti utili alla collettività saranno i percettori del reddito di cittadinanza. Nelle prossime settimane, infatti, verranno chiamati a prestare il loro contributo presso alcuni settori di pubblica utilità. Sono progetti utili alla collettività che serviranno per portare a termine il processo del reddito di cittadinanza. Difatti, i destinatari dei PUC sono proprio i percettori del reddito. E in che cosa consistono, nello specifico? Considerando che gli ambiti di intervento dei PUC sono ambito culturale, artistico, ambientale, sociale, tutela del patrimonio, sono questi gli ambiti nei quali i percettori del reddito dovranno svolgere questi patti. I percettori del reddito sono tenuti a svolgere questi patti. Difatti, la mancata partecipazione ai PUC comporta anche la decadenza dal beneficio. Quindi sono patti predisposti proprio al fine di legittimare la percezione del reddito. Collaboreranno con l'ente comunale o con gli altri enti pubblici che hanno la possibilità di diventare partner del comune, ma in ogni caso non danno luogo a nessun tipo di ipotesi, tipologia di lavoro autonomo o subordinato. Restano comunque dei patti ai quali il percettore è tenuto. Quindi non creano nessun tipo di diritto ulteriore. Tra i comuni del Napoletano sappiamo che è partito Bacoli, Mercato Sansevirino, ma tra i comuni del Napoletano sicuramente Torre del Greco è il primo comune con più di 50.000 abitanti che oggi è pronto con i PUC. L'amministrazione partirà con dei PUC comunali nei giorni a seguire che verranno approvati in giunta comunale, proprio nell'ambito di alcuni settori previsti dai PUC stessi. Per quanto riguarda invece i PUC dell'ambito sociale, oggi è stato pubblicato sull'albo pretorio un avviso pubblico proprio per incentivare gli enti pubblici del territorio e gli enti del terzo settore a collaborare per la realizzazione dei PUC stessi. Quindi la conferenza stampa di oggi ha anche questo obiettivo, perché comunque sono numeri importanti, perché comunque è un progetto da portare a termine. Chiediamo anche la collaborazione degli altri enti sul territorio di collaborare per la realizzazione dei PUC stessi. Alla conferenza hanno preso parte anche il sindaco, dittore del Greco Giovanni Palomba, il dirigente alle politiche sociali Andrea Formisano, i consiglieri comunali lista il cittadino Luigi Caldarola e Pasquale Brancaccio. Noi ci rifacciamo a quella che è la legge dello Stato e nello stesso tempo, con la mancanza di quella che praticamente tutti gli enti e tutti i comuni hanno di mancanza di personale, usufruiremo di questo personale, secondo i temi di legge, gli orari e tutto, affinché alcuni nostri servizi, in particolar modo la custodia, che è quello che in questo momento noi abbiamo più difficoltà, possa praticamente avere, che vi devo dire, l'apertura delle ville comunali, del cimitero, dei palazzi. Quindi possiamo avere custodi o altre, in realtà sono vari progetti che nei vari settori sono stati fatti e io spero in tempi brevissimi di avere queste persone a lavorare nel Comune di Torre del Greco, secondo sempre quelli che riguardano il reddito cittadinanza, quindi non diventano lavoratori del Comune di Torre del Greco, ma devono servire per quello che loro prendono come reddito cittadinanza. Comune di Torre del Greco